Noi operiamo come consulenti, come società che fa supporto nell'ambito dell'ingegnere meccanica, quindi sviluppiamo progetti ad hoc per i nostri clienti, analisi strutturali e analisi termiche oltre che CFD. Nell'ambito dell'automazione abbiamo sviluppato sistemi di controllo di macchine automatiche, nell'ambito dell'ingegneria informatica invece abbiamo sviluppato software sia di natura scientifica ma anche come interfaccia per macchine sempre di tipo automatico.